beh raga Gabriel sta per partire vediamo se si spaccherà oh il vento vai roccia come on come on torneri dios capri ho esplosato l'amortizzatore io non posso più fare niente ho esplosato l'amortizzatore prima che andiamo in panesca e facciamo le foto io a few moments later vogliamo qui c'è proprio il canalone come cazzo fai farlo così col fango no no vecchio riporta l'ignodezza ok ragazzi stiamo facendo un freddo siamo per rientrare molto difficile stassato bagnato wow 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 sono uscito yeah ho tirato su un albero aspettate ragazzi sono pronti sono pronti ok 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 e mi vengano i cavani mi credi perché oh Mario ame scese però perché con i bambini chiascita ceri è andata no 5 e poi pugno e beh mi sono frenato ero un po lento si avanza lo si riuscite no ah 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 But that's alright Hush Porco di